basketblog presenti alle finali porta bene la laurenziana che si porta a casa la prima vittoria con il bianco verde 1 a 0 una serie al meglio delle tre partite come stanno facendo questi questi inizi di playoff tutti i fiorentini ma secondo me è una cosa molto bella per firenze perché qualche anno fa non c'erano le serie di a firenze forse non solo una serie di invece adesso ci sono tante serie di ci sono anche altre società che sono salite altre due fiorentine serie di quindi è questo importante perché un campionato dove i giovani possono crescere oggi l'abbiamo fatto vedere che tutte e due le squadre perché anche il pino bianco verde scusate ma va bene lo sappiamo tutte e due squadre ha messo in campo tanti giovani e questo è importante ecco il pubblico è già di per sé numeroso e rumoroso quali potrebbero essere i motivi in più per venire a seguire la serie di la vorenziana o comunque di altre squadre in questa categoria ma credo che la partita di oggi anche se poi obiettivamente la partita è iniziata e forse finita anche velocemente però è stata comunque una partita bella poi comunque secondo me le partite playoff davanti a tante persone è sempre un bello spettacolo al di là della categoria grazie a tutti grazie a tutti